A prima inveito e poi minacciato con un'arma un dipendente del SUAP del comune di Andria, nei cui uffici era stato convocato per regolarizzare i canoni arretrati di concessione per il suo posteggio all'interno del mercato del pesce. Il fatto, nella tarda mattinata di ieri, negli uffici di Largo Grotte. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati gli altri dipendenti dell'ufficio, mentre l'uomo è fuggito. Si tratta di un quarantenne identificato dopo poco dai carabinieri. Nei momenti più concitati, scrivono in una nota dal comune di Andria, a nulla sono valsi i tentativi del dipendente del comune di spiegare all'uomo, in evidente stato di agitazione, come la sua lamentela fosse assolutamente immotivata. Si tratta di un atto riprovevole, ha spiegato Cesare Troia, assessore alle attività produttive, proprio perché l'ufficio ha inteso agevolare il rientro dall'esposizione debitori e tale comportamento violento ha dimostrato di non voler accertare alcuna ragionevole mediazione. Per il sindaco di Andria Giovanna Bruno è questa la testimonianza che esistono ancora frange di illegalità diffuse che vanno però combattute.